rispetto al classico orario delle 18, noi iniziamo qua un po' di minuti prima per fare un po' il punto della situazione. Lo facciamo con il Presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi che è sempre con noi ancora per qualche settimana, almeno per arrivare alla fine di questo 2022 e poi vedremo Marco. Ciao Marchino, buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti cari amici, il Presidente Fermi è qui con noi per rispondere anche alle vostre domande, per parlare un po' anche dei temi di grande attualità, caro Presidente, ce ne sono parecchi, già in questi giorni abbiamo ricevuto diverse mail, soprattutto in redazione, che ci chiedono soprattutto, caro Presidente, della sanità e di disagi, problemi per il pronto soccorso, tempi di attesa, insomma queste situazioni purtroppo a volte spiacevoli e poi anche un'altra cosa che vorrei precisare, siamo ancora in pieno clima vaccinazioni anti-influenzali, perché è molto importante anche questa cosa qua ricordarlo, perché l'anno scorso, hai detto, è vero, l'anno scorso si è quasi azzerata l'influenza, però magari quest'anno un'attenzione particolare ci vuole. Allora, tanti saluti, quanta gente che ti porta i suoi saluti, molto bene, allora sì, il Presidente sta qua con noi per i prossimi minuti, Allora, dicevo Presidente, iniziamo magari a parlare di sanità e di problemi legati anche al pronto soccorso. Devo dire che ne ho ricevute un po' di mail, di messaggi. E hanno ragione Marco, nel senso che la situazione nei pronti soccorsi... Nel pronto soccorso, ecco, in modo particolare faccio un riferimento all'ospedale Sant'Anna. Però diciamo che la situazione dei pronti soccorsi a livello nazionale e anche a livello regionale è una situazione complicatissima Marco, perché Sant'Anna è uno dei pronti soccorsi che ci sono in Lombardia, che ci sono a livello nazionale e riflette un po' la situazione generale, in cui una serie di concause che si sono determinate e che in parte la pandemia ha complicato, perché la ricostruzione della normalità è stata complicata dal fatto che oggi c'è stata negli ultimi almeno 15 anni una errata programmazione nella formazione dei medici. Oggi mancano medici di emergenza e urgenza e mancano infermieri. Da noi la situazione è ulteriormente complicata sul tema infermieri, dal fatto che abbiamo una concorrenza della Svizzera che è una concorrenza sleale, perché ovviamente, in virgolettato... Ce lo sta scrivendo anche il nostro amico, guarda, in questo momento. Perché? Perché? Perché al posto di trattenerli li facciamo andare all'est... Perché vanno in Svizzera, perché se ovviamente qui prendi 1500 euro, l'Atene offrono 2700, è chiaro che se hai la possibilità da un punto di vista di tragitto, insomma, di abitazione, ci vai, è ovvio, il mercato è libero, la pagano di più, e quindi bisogna trovare una soluzione per le aree di confine, perché la situazione degli infermieri è complicata ovunque a livello nazionale. Diciamo che qui abbiamo anche una concorrenza svizzera che ci porta via un pochino di forza lavoro. E i medici di emergenza e urgenza e gli anestesisti, ma in particolare l'emergenza e urgenza, sono pochissimi, Marco. Cioè, si fanno bandi, si fanno concorsi in cui non partecipa nessuno. Perché? Perché è stata sbagliata la programmazione governativa degli ultimi almeno 15 anni. Così tiro dentro, come dire, tutti i governi e i partiti in modo che non ci siano questioni politiche. Però è stata sbagliata, così come è stata sbagliata la programmazione sui medici di medicina generale. Cioè, tu hai una curva del pensionamento che portava, ovviamente, un certo numero di medici di medicina generale ad andare in pensione, e se non compensi questi pensionamenti con i nuovi ingressi, è chiaro che ti tornerai in una situazione in cui i medici di medicina generale saranno insufficienti a rispondere alle richieste della cittadinanza. Mio papà di 84 anni, ci scrive Laura, e questo è uno dei problemi legati a quello che in parte tu ci stai dicendo, però, ripetiamo, non vogliamo colpevolizzare nessuno. Vogliamo però cercare di fare un po' il punto della situazione. So che tu poi conosci molto bene i vertici dell'ospedale Sant'Anna, ma del resto... Sì, ma è così ovunque. E quindi, Presidente, diceva Laura che suo papà ha 84 anni, è arrivato con l'ambulanza, 10 ore di attesa e nessuna visita. Ecco, è questo che un po' fa male, Presidente, con 84 anni, sono scappati poi a casa, dice, siamo scappati a casa. Ecco, un saluto anche dal amico Dario, dal Consolato Generale di Stoccarda, ci guarda. Ciao Dario, ti saluta Laura, che è una tua estimatrice. Buonasera Laura, e Valerio Dagarzeno, e Valeria, e Isa, grazie per l'aiuto dei tamponi, che a Mamma Clara poi non è mai arrivato l'esito negativo, ma il certificato di guarigione. Bene, bene. No, la situazione dei pressocorsi, l'esempio che portava la nostra Laura, è un esempio che, come dire, fa tristezza. Cioè, bravo. Nel senso che non hai una giustificazione, nel senso che oggi tu, se porti un pressocorsi di 84 anni, un po' pensa che stia a pressocorsi per 10 ore e torna a casa. Non esiste, ma non esiste. Ma non esiste, ma non esiste. E purtroppo, però, Marco, la cruda verità è che oggi non c'è una soluzione immediata. Cioè, oggi tu hai, come dire, questa situazione per cui il personale a disposizione è X, e non è che te lo puoi inventare, c'è una carenza su alcune figure professionali. E poi l'altro tema, che compice la pandemia, compice, come dire, la fatica di gestire la pandemia nel pronto soccorso, ovviamente un medico, se appena appena ha una soluzione alternativa rispetto a quella di stare in pronto soccorso con l'emergenza e l'urgenza, è chiaro che sceglie un'alternativa. Perché? Perché tutti quelli che hanno contribuito in maniera molto, molto incomiabile a gestire la pandemia al pronto soccorso, oggi ovviamente sono da un lato stanchi, da un lato cercano delle alternative, quindi la forza lavoro che ha a disposizione è quella. E questa situazione purtroppo è una situazione nazionale, è una situazione del Lombardo, è una situazione del Sant'Anna, è una situazione che riguarda tutti. Come corregge questa cosa qui? L'unica correzione è solamente quella di puntare sull'assunzione e soprattutto sulla formazione, perché i concorsi ci sono, ma non sempre questi concorsi hanno risposte da parte dei medici alla partecipazione per aumentare il numero di persone che lavorano nel pronto soccorso. Adesso su Sant'Anna verranno fatti degli interventi di adeguamento, miglioramento strutturale del pronto soccorso, che anche migliorerà un pochino la fase di accoglienza. Però sai, questo è un tema che va bene, nel senso che va bene, si sistema, verrà migliorato anche il pronto soccorso pediatrico, verrà fatto qualcosa di bello, perché al fine sono un bel po' di soldi che sono rimessi lì, però la forza lavoro è quella fondamentale, se ti mancano i medici... No, infatti, è quello che abbiamo sentito, quindi ecco, perché a volte, la cosa brutta Presidente, vorrei cercare di precisare anche questa cosa, è chiaro che, ecco, questo è il caso di Laura, sta suscitando un po' di scarpone, purtroppo no, e sembra poi che quando poi arrivi e dice, ecco, è una sorta di menefreghismo, no? Dici, ah, ecco, se ne fregano di noi, no? Io vorrei anche essere preciso, esatto, precisare che c'è i grandi professionisti... Poi quando vengono presi in carico, tutti comunque rimangono soddisfatti dell'assistenza che viene data, il problema è che se tu sei da solo e hai 10 persone, le puoi vedere una alla volta, quindi da quando arriva la decima passa del tempo, se sei in 4, quel tempo lì viene diviso, diviso 4 e quindi finché non si riesce ad aumentare il numero dei medici di prima emergenza e di emergenza-urgenza, è facile superare questa situazione. Senti, stasera sono scatenati, eh. Alle 5 e mezza del pomeriggio. Sì, sono scatenatissimi, veramente, non pensavo così tanta gente intanto, e sono veramente tanti e scatenati perché ci stanno proponendo una serie di quesiti, anche importanti, e che io ti girerei. Allora, intanto, aspetta un attimo che... Vabbè, intanto saluto la nostra Laura che ci ha portato questo esempio, ci dice anche l'amico Dario che anche in Germania, poi più o meno la situazione è così, dice non così 10 ore, però anche lì è lunga, quindi anche lì ci sono casi abbastanza simili. Poi Isa ci dice i trasporti pubblici di Trenord, ne parliamo tra poco, Marida però, per restare in tema, perché in effetti oggi, non Marida, ma un'altra persona mi aveva scritto, chiedi al Presidente per cortesia anche perché se si riesce a fare qualcosa sui tempi di attesa per le visite, perché in effetti, Presidente, anche qui, Marida ci propone questo tema che è un tema, credo, importante, che comunque si incastra su quello che dicevi prima, e anche lì, Presidente, una mammografia o esami importanti per Baco. Le liste d'attesa, il grande tema delle liste d'attesa è una delle cose che dopo la pandemia, qual è successo Marco? La verità qual è? Che durante il primo pandemico tutto quello che non era urgente, quindi è chiaro che se uno aveva un problema oncologico veniva preso in carico, se uno aveva un trauma veniva curato, ma tutto quello che era rinviabile è stato rinviato e quindi è come se tu, come dire, blocchi per un anno, non per due anni, però a fase alterna, tutta una serie di interventi, cosa succede? Che poi queste persone non è che guariscono da sole, viene solamente spostato il problema e nel frattempo in quell'anno lì altre persone hanno iniziato ad avere quel problema, quindi c'è un arretrato da un lato che allunga le liste d'attesa e su alcuni interventi le liste sono già lunghe prima della pandemia e quindi questo è un grande tema, però qualcosa su questo si sta muovendo e un po' si sta migliorando la risposta rispetto ad alcuni interventi, perché noi abbiamo una grande capacità sulle questioni più importanti di rispondere bene, ma su alcuni esami, per esempio la cataratta, l'operazione all'anca, alcuni tipi di esami come di routine, che però se uno ha un problema alla cataratta e lo trascina per qualche settimana non c'è problema, ma se lo trascini per sei mesi dà fastidio, così come chi deve essere operato all'anca o deve essere operato al ginocchio. E quindi su quello però si sta migliorando, abbiamo fatto l'iniziativa degli ambulatori aperti per il discorso serale, per anche lì per abbattere un pochino... Grazie alla creazione delle case comunità, adesso il 24 inaugureremo quella di Orgiato Ecomasco, abbiamo inaugurato questa qui di Como, inaugureremo quella di Orgiato Ecomasco, poi ci sta quella di Erba, ecco, anche grazie alle case comunità, all'interno di quelle case comunità verranno svolte alcune prestazioni. Funzionano queste case di comunità? Allora funzionano nel momento in cui c'è il personale che le fa funzionare. Il problema è sempre quello. Il problema è sempre quello del personale. Ci saluta anche l'ex assessore Elena Negretti. Ciao Elena! Buongiorno Elena! La gente si reca in PS senza motivo d'urgenza e lo intasa inutilmente. Questa è la Elena, sì, c'è anche chi lo intasa inutilmente. Esatto. Però dicevo, le case di comunità, come la Elena sa, alla fine funzioneranno se ci sarà un personale che ovviamente lavorerà lì dentro, però io credo che creando una serie di hub, che poi sono degli hub sparsi sul territorio, che sono fisicamente riconduggenti, riuscibili e visibili dalle persone, in cui ci saranno una serie di servizi, comunque un po' di quei servizi di togli, per cui se uno ce l'ha, doggiate con masche, è molto più comodo andare lì e magari ci sarà la prestazione oculistica, piuttosto che la possibilità di fare gli esami del sangue, una serie, ovvio, dove funzionerà bene, dove i medici vicini in generale contribuiranno anche loro a abitare le case di comunità. Scatenati stasera, Presidente, te lo garantisco. No, no, allora, aspetta, Ramona, brioche e caffè, non ho capito, aspetta, però Ramona ci ha scritto una cosa prima, ciao Ramona, allora Marco, ciao Presidente, anch'io con la nonna, non mi hanno permesso di stare con lei a 92 anni, diciamo che molte direttive vanno corrette. C'è un altro amico che ci ha detto, ad esempio il tema del rientro dei medici all'interno degli ospedali, che tutti hanno fatto questa polemica, una parte ha polemizzato rispetto al fatto che abbiano detto di fare il vaccino, questi qui alla fine rientrano. Ma Marco, oggi, come dire, dare merito a chi si è vaccinato e, come dire, in qualche modo pensare di punire all'infinito quelli che non si sono vaccinati, va bene, fino a un certo punto, perché nel momento in cui ti servono medici, questa è tutta gente che immessa nel servizio, sono anche bravi medici al netto che avevano queste loro idee sulle vaccinazioni, però capisci che è forza lavoro in più. In un momento in cui, come dire, hai sovrabbondanza di forza lavoro, è chiaro che non ti servono, ma se oggi abbiamo carenza di medici, come fai a dire a questa gente qui, ti servono Marco, ti servono. Poi possono essere criticati per non essersi vaccinati, li hai sospesi, li hai allontanati dall'ospedale per tutto questo tempo, ma voglio dire, oggi se hai dieci medici in più in un ospedale, cinque medici in più in pronto soccorso, è oro che gola. Enrico, buon pomeriggio, un saluto anche alla nostra Rosa, abbiamo un grande problema con il medico di base, oggi ho chiesto un appuntamento per una visita medica tramite mail, perché al telefono non rispondono, la risposta è stata a causa della troppa affluenza telefonica, non potete darmi un appuntamento. Allora, ecco Presidente, questa cosa qua, questa cosa qua, io so che tu sei figlio di un medico di base, il short tour, ecco io non riesco a capirla, non dico accettare, il fatto è che tu adesso devi fare un appuntamento, devi parlare col tuo medico, devi mandare una mail, mi sembra un po', cioè in alcuni casi questa cosa del Covid, viene stato protratto, ora io non faccio dei, non voglio dire, però ragazzi, no! Ti dico, ci sono, come in tutte le cose, il Covid ci ha insegnato alcune cose che secondo me sono positive, per dire, io so che ho bisogno di una prescrizione medica, mando una mail al medico, senza dover per tempo andare in ambulatorio, me la rimanda con la ricetta, è una cosa positiva. E quando c'è l'eccesso, nel momento in cui tu hai bisogno di una visita, visita, bravo, adesso le mando, ecco, no, forse è meglio, forse il vecchio contatto, questo non va bene, ma il short tour, il tuo papà, il tuo papà Enrico, quante persone andavano da lui, perché dicono, vado dal short, ecco, era così. Vabbè, comunque intanto, scusate ancora, perché stasera veramente sono scatenatissimi il Presidente, non so cosa è successo. Alle 5 e mezza del pomeriggio è strano, perché la gente lavora. Attilio, buonasera, che differenza c'è, Presidente, tra un medico vaccinato e uno non vaccinato? Poi ci saluta la Silvia. Nessuna. Ciao Attilio, buonasera anche a Graziella, ciao Guido. Ciao Graziella, ciao Guido. Ciao Guido per l'università, non ho capito, tutto sta a trovare il giusto equilibrio, ciao Cristina. Sì, sull'università, l'apertura, l'ampliamento, l'ampliamento, adesso, anche qui, il numero chiuso all'università di medicina è un grande tema, io non dico di aprire completamente, ma allargare, ma allargare completamente, cioè, io dico, anche qui, voglio dire, cerchiamo di indirizzare i nostri giovani su facoltà che poi danno lavoro e che servono come lavori. Giurisprudenza non ha test d'ingresso. È inutile che stimoliamo, io sono come dei figli di mani pulite, no? Sì, sì. Nel senso che alla fine, quando mi sono scritto a giurisprudenza, lì sono iscritti tutti, c'è stata un'infornata di gente iscritta a giurisprudenza che poi non sa che cavolo fare. Oggi servono i medici e limitiamo, e limitiamo, e limitiamo, capisci? È un controsenso. Effettivamente sì. Allora, poi, senti qua, vorrei cercare di dare un qualche, allora, c'è anche Francesco, serve una riforma anche dei medici di base, perché molti invitano a prescindere i pazienti al pronto soccorso senza prendersi responsabilità. È vero, Marco, ti dico anche questo però, ti dico anche questo. Anche qui, purtroppo, bisogna sistemare alcune cose. Allora, perché il medico di base a volte manda al pronto soccorso? Perché non è il caso di questo che ci scrive, ma in alcuni casi, se tu dici al tuo paziente, guarda che non c'hai niente, fai una cosa, prendi una spirina stasera e vai a letto, questo qui magari è capace, ovviamente, di fare la polemica, in alcuni casi, nel momento in cui tu dovesse avere qualcosa il giorno dopo, anche di denunciare il medico, per cui uno cosa dice? Va bene, guarda, per non sapere, secondo me non c'è niente, però su, ti faccio la prescrizione e vai al pronto soccorso. Che è un sistema che non funziona. Poi, come ha detto Elena prima, poi alla fine in quel caso, con i codici bianchi, vai a fare un caos pazzesco, presidente. Però, ho capito, però Marco, tu devi capire che alla fine va data un paracadute, un ombrello ai medici, sulla responsabilità, sulla responsabilità, perché sono fioccate, ormai dall'avvocato ci vai come andata a farmacista, sono fioccate decine e decine di denunce rispetto ai medici in medicina generale, che a quel punto dici, ma io perché mi lo prendo una denuncia in responsabilità, ma lo vuoi questa prescrizione e ti faccio questa prescrizione, che non va bene, non va bene, però vanno anche tutelati loro, dicendo che se ti dico che non serve, non serve, piuttosto cambia medico di base. Adriana dice, brava Rosa, ho io lo stesso medico, non dico che tutti i medici siano così, però non si riesce nemmeno a parlare col medico e non posso cambiarlo, posso uscire solo dal paese e sono sgangherata come sono. Ti saluta anche Daniele Peduzzi, ciao Daniele, caro buonasera a te. Grande Daniele, funicolare, è ferma, beh è ferma, però sta facendo lavori importanti. In Svizzera ormai si può usufruire del dottore, semplicemente chiamando, 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 aspetta, chiamando, aspetta, chiamando, chiamando, aspetta, un attimo, l'ho perso, vabbè, poi ci saluta Cristina, la nostra Cristina, ciao Marco e Alessandro, ciao Cristina, sono vaccinata, quando sono entrata in Italia per andare a trovare la mia azienda in ospedale ho dovuto presentare il Green Pass mascherina ai medici, ecco, i medici non vaccinati erano sospesi, allora, ecco, questo è anche questo un problema che ci hanno segnalato proprio in questi giorni, caro presidente, devo dire che stasera è scatenata, allora, però vorrei precisare una cosa che mi ha detto ASS Tilariana, il Green Pass per entrare in ospedale è sempre servito, cioè non è mai stato tolto, fino al 31 di dicembre è in vigore, la mascherina pure, poi è vero, dice Cristina, perché poi i medici non vaccinati sono poi stati, sono tornati, sono tornati, perché servono medici, Cristina, cioè il problema vero è collegato anche ai messaggi sopra, cioè abbiamo i prossocorsi che scoppiano perché ci sono alcuni medici che sono, oppure come dice Guido, il mio medico ha una sanitaria fantastica, chiami, ti manda mail, sms con ricetta, tanta voglia di lavorare, poi ecco, capitale umano va sempre a differenza, esatto, Guido, Guido, sono d'accordo con te, poi salutiamo allora nostra Cristina, carissima, ciao Cristina, un'altra Cristina, Isa e Daniele, Adriana un saluto a te, allora perché non possono lavorare in ospedale se sono dottori e forse fa riferimento ai medici non vaccinati, sono tornati, adesso sono tornati, e Laura dice il Sure du Tour veniva a domicilio pre-Covid e poi è vero Laura, qualcosa pare si sia inceppato lì Presidente, io faccio risalire un po', perché il fatto di mandare una mail da parte di un dottore a me sembra un'anomalia, poi capisco che le ricette, va bene, le cose anche più diciamo spicce, va bene, ma va bene, Marco, è chiaro che abbiamo visto il caso singolo, io ho bisogno come dire di fare gli esami del sangue, se mando una mail e il medico mi rimanda come dire l'impegnativa, per me è un servizio utile, evito di perdere tempo andare in ambulatorio e me la manda direttamente a casa, è chiaro che se bisogna una visita non puoi dimmi, se mi fa male un braccio non è che puoi mandarmi la ricetta con la risonanza. Costina dice che io sono favorevole all'ariento dei medici, intendevo appunto che i contagi c'erano anche con i medici sospesi, quindi ottimo dice averli integrati, sì, ok, perfetto. Sì, necessità virtù, mettiamola così, di necessità virtù. Allora, c'è già anche qualcuno come Clara e come Isa, e anche Francesco che ti fanno gli auguri per domani? Perché è il tuo compleanno. No. Domani compie gli anni. No, 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 no. Non compie gli anni. Quest'anno, quest'anno, sicuramente no, mi dicono l'anno prossimo. Ma tu sei veramente una leggenda. Quest'anno no, quest'anno no, 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 te lo posso garantire. Quindi Clara, domani non compie gli anni il presidente, ciao quindi Isa, non offre da bere. Te lo garantisco, quest'anno no. Allora, mia sorella ha avuto due volte il covid, Adriana, nessuno l'ha visitata. È normale? Beh, se, come dire, non ha avuto problemi particolari, sì, ecco, non so che problemi dovesse. Per le prenotazioni online dei vaccini, per chi ha cambiato da poco, qualche settimana, la tessera sanitaria, occhio che si riesce ad accedere al portale di prenotazione con la tessera vecchia e non con quella nuova, ci scrive Silvia. Ma questo me l'hanno segnalato. Silvia è una molto attenta. Me l'hanno segnalato anche a me, che è la nuova, che è il discorso del CIP. Eh, boh, può essere, esatto. Però, però, me l'hanno segnalato anche a me sta cosa. Poi, allora, saluto ancora Marida, Cristina ti fa gli auguri, ma non compie gli anni quest'anno. Non compie gli anni. Poi Daniele, Laura, ok, Cristina, Silvana, poi Silvano, Attilio, che differenza c'è tra un medico vaccinato e uno non vaccinato? Buonasera a tutti, ancora ci sono altre amiche che ci hanno scritto in precedenza, Ramona l'abbiamo già salutata. Ah, ecco, c'è un amico, mi sfugge il nome, che ci chiede, Presidente, che cosa ne pensi di questi lavori infiniti sull'A9, sull'autostrada dei laghi? Sono lavori che stanno creando un po' di disagio, tanti disagi. Non si può, oggi io leggevo che Anas, scusa, Autostrada per Italia, dice, Silvano, ecco, Silvano, sì, dice, no, andiamo avanti, anche dopo il 18 di novembre, che doveva essere la data limite dentro la quale fermarsi. Ma Presidente, non si può, perché in effetti è un po' un problema. Io capisco che bisogna intervenire, si interviene sulla galleria, eccetera, però... Non si crede, ma sono diventati veramente... Una cosa veramente... Troppo lunga, rischia entrare una barzelletta, anche perché avvicinandoci al periodo natalizio, con le manifestazioni natalizie, col periodo natalizio, è chiaro che alla fine abbiamo bisogno che l'autostrada non abbia i valori, i lavori, perché non si viaggia, cioè sul pezzo, su via per Cernobbio, è un disastro. Adesso il tema della città di Balocchi, che quest'anno si farà a Cernobbio, trarre della gente, cioè alla fine diventa un casino. Certo che non abbiamo competenza su quella roba lì, ma... Su quello non si può fare nulla, vero? La regione non ha competenza, perché è su stai autostrada. Luisa ti fa gli auguri per domani, Cristina ti aspetta alle azzorre per un brindisi, magari, magari, ti saluta, ti saluta Meri da Inverigo, e Silvia dice no, non è per il discorso del chip. Digitando il numero di tessera nuova, il sistema va in errore, digitando quella vecchia è tutto finito. Funziona. Beh, è un po' meglio allora, perché se ha il discorso del chip, perché qualcuno invece mi ha detto che non andava al chip. E segnaliamo questa cosa, Marco, ringraziamo e segnaliamo questa cosa. Silvia, brava. Ramona dice, dalla ghè vi dico, ma come possiamo fare a togliere la lunga coda in viattorno? È un disastro, sì, è vero, anche quello della viattorno. Eh, sì, 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 sì. Perché corre in viattorno? Perché, non lo so, ma è un casino, è un casino anche lì. Poi c'è Ketty che dice, ciao grande Ale, il discorso medici di base è un grande problema, subissati di pazienti e lo sono sempre pochi. Non si potrebbe unirli tutti in un unico ambulatorio in zona? Allora, il tema case di comunità ha anche quell'obiettivo, cioè quello di stimolare i medici di base a dire, mettetevi insieme, in modo tale che, come dire, lavorando in team, si può allungare l'orario, prima uno poi l'altro, di servizio. Creare una sorta, come dire, di comunità all'interno della casa di comunità in cui, come dire, il servizio ai cittadini è più ampio da un punto di vista di orario, con, come dire, un tentativo di provare a creare una sorta quasi di libertà, nel senso che uno arriva lì e trova qualcuno che gli dà ovviamente una risposta. Però quello che diceva prima sul numero di mutuati, mio papà, che era un massimalista a suo tempo, aveva 1.100 mutuati. Pazienti, oggi siamo arrivati a 3.000. 2005-3.000, per cui è chiaro che alla fine gestire 3.000 mutuati, ma come gestire 1.000. Marco, ti ho mandato lo screenshot dell'errore che appare accedendo con la smarcarlo, va bene, Silvia, grazie, sei sempre molto carina, molto gentile, grazie Silvia, Silvia è precisissimo, quindi grazie Silvia, ciao Marida, ciao Attilio, Silvia. Campania vaccinale, stando bene Marco? Che ti, che dice, abbiamo già detto, anti-influenzale sta andando bene. Ecco, diciamolo perché è ancora il momento per fare le vaccinazioni, per chi non l'ha fatto, c'è la quarta dose, ok, va bene. La quarta dose boost si può fare anche insieme, però dai 60 in su, dai 4 anni ai 14 anni, è gratuito e puoi farla sia negli hub sia nel medico di base e da quest'anno per la prima volta anche nelle farmacie aderenti, perché uno può prenotare in farmacia, c'è anche il sito di prenotazione direttamente su internet e tu hai la possibilità di farlo anche in farmacia. Quest'anno l'influenza inevitabilmente sarà un po' più forte degli altri due anni, perché abbiamo visto due anni con le mascherine e quindi di fatto eravamo protetti anche rispetto al virus influenzale, quindi quest'anno ci sarà ovviamente un po' di influenza, niente di preoccupante, anzi secondo me ci saranno più casi influenzali che casi di Covid, cioè complessiva, poi lo vedremo a marzo, ma saranno più casi influenzali che casi di Covid. Federica e Andrea, Alessandro, tantissimi auguri per domani. Ripeto, 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 quest'anno non faccio, è chiaro, non faccio gli anni. Elena Negretti, buon compleanno Presidente. Ecco un'altra, Elena non compio gli anni quest'anno. Perché non aumentare gli stipendi ai medici e agli infermieri per non farli scappare, ci chiede Silvano, certo. Il tema degli stipendi dei medici e degli infermieri è un tema fondamentale su due aspetti, il primo per le aree cosiddette disagiate, qui siamo a Como, l'ospedale di Como c'è ancora la sua trattita, ma tu prendi Sondalo, tu prendi Morbegno, tu prendi Menaggio stesso per stare in provincia di Como, piuttosto che nell'Alto Varesotto, sono zone in cui siccome oggi l'offerta di posti di lavoro ai medici è talmente ampia che il medico sceglie dove andare, allora poi c'è qualcuno che ha piacere di andare a Sondalo o a Menaggio per mille motivi, ma lì o stimoli, come sui magistrati, un'indennità aggiuntiva di luogo dislocato, per cui gli dai qualcosa in più, guarda, tu devi guardare questo, ti do questo più questo pezzettino, però va a Menaggio per almeno 5 anni, poi uno magari va di 5 anni, si trova bene, fa la sua famiglia, sta tutta la vita lì, però oggi Marco, sulle sedi dislocate è talmente alta l'offerta di lavoro per i medici che il medico può scegliere di lavorare sotto casa o l'ospedale più vicino a casa, capisci qual è il tema, o trovi dei criteri, degli strumenti incentivanti, o se no è durissimo, è come per i magistrati, il magistrato vince il concorso, se vai a fare magistrato a Lipari, ti do qualcosa in più perché vai a Lipari. Allora gli auguri te li fa anche Antonia e poi Mirela che torna anche lei, ciao Mirela, anche Giorgio da Erba, Cristina, anche lì mancano i medici di base nell'Azzorre, però nella comunità non ci sono tutti i servizi, io per mia figlia mi hanno dirottato in pronto soccorso, per il resto ottima soluzione, scrive Ramona. È andata in casa in comunità di... Sì, penso Cuomo Ramona. Sì, al momento quella aperta... Magari fare un po' più di pubblicità dice perché ci sono queste case di comunità. Sì, in effetti... Allora il 24 apriamo quella di Olgiato e Comasco, poi ci sarà quella di Erba, che sarà Ponte Lambro per la precisione, ho sistemato perché hanno fatto anche gli interventi di questo tipo, poi ci sarà quella di Cantù, poi ci sarà quella di Menaggio, quindi dislocate, da qui al 2023 apriranno tutte e insieme a questa verranno anche aperti gli ospedali di comunità, che è il tema dei posti letto. Come provincia di Comunità noi siamo carenti di posti letto rispetto alla media nazionale e anche alla media lombarda, perché nel trasferimento tra il vecchio ospedale Sant'Anna e quello nuovo abbiamo perso un sacco di posti letto. Dicendo, ospedale nuovo, quindi tutto più funzionale, possiamo fare meno posti letto. La verità è che invece servono, gli ospedali di comunità, che sono moduli da 20 posti letto che verranno fatti nelle varie zone della provincia, continuano ad aumentare un pochino, tant'è che Comunità avrà un ospedale di comunità in più rispetto alle altre province proprio per questo motivo. Allora, io e mia moglie abbiamo fatto tutti e due i vaccini, al vecchio Sant'Anna, Giorgio, Guido dice 17 dicembre alle, ti aspettiamo cena natale, protezione civile di Albavilla, Laura ti fa tanti auguri di buon compleanno, ti saluta anche Gian Felice, il presidente di Montesordo, ho visto, ho mandato le foto, ho mangiato un sacco quella sera lì, ho mangiato la cazzola, il brasato, io ho mangiato lo stinco, ho mangiato la polenta, ho fatto il biscotto, la polenta e il formaggio, c'è una babba pazzesca, poi il dolce, Gian Felice, buonasera, grande presidente, un grande amico di Montesordo, di Cermenate, grazie, un saluto a voi, ragazzi, io sono andato un giorno a fare un servizio e sembrava che fosse arrivata la RAI, in realtà era, c'è un como, mi hanno accolto veramente con un affetto incredibile, grazie ancora ragazzi, Silvano, ciao, Antonia, Elena, Giorgio, Mirela, Attilio, buonasera Silvia, Isa e Catti e Ramona e a tanti altri amici scatenatissimi questa sera, c'è anche Cristina, c'è Dolores, che dice io ho un medico eccellente, già Luigi Spata, è disponibile per tutto, allora, ciao Dolores, un saluto, presidente dei medici, io mi devo scollegare, un abbraccio, presidente da Cristina, ciao Cristina, abbiamo finito, allora Lorenza, che è avanti, dice, allora non buon compleanno, brava Lorenza, brava, allora buon non compleanno, brava, 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 ti saluta anche Marinella, ti saluta Mirela, Luisa, ti fa gli 3 di dicembre, non so dove, poi, maccherai meglio, ciao, Marida, ti ringrazio, dell'affetto che hai anche tu nei nostri confronti, ciao Marida, ciao a Clara, ciao a tutti, ti saluta, bene, no, dai, ci fermiamo, perché, presidente, abbiamo superato il tempo che ci eravamo prefissi, stasera scatenati, torni fra due settimane, ci vediamo, sì, assolutamente, perché devo dire che questa sera ci sono stati tanti temi, tanti spunti, torneremo a parlare di sanità ed intorni tra due settimane con il presidente Fermi, lo lasciamo andare, che c'è un impegno istituzionale importantissimo, ma non dico quale, ciao presidente, un caro saluto, ciao Martino, ciao a tutti, buona sera.